Grazie a tutti Quanti subemendamenti sono? Tra subemendamenti abbiamo superato i 40.000 Siamo pronti a trattare rispetto a una legge elettorale seria che ci consenta da domani di poter andare al voto perché prima va a Casarenza e vogliamo una legge elettorale per poterlo fare già entro questa primavera Ma perché presenta di nuovo questi tanti subemendamenti? Cosa succede? Perché nessuno ci ha mostrato le carte rispetto alla proposta della maggioranza e siccome si corre il rischio di non poter neppure discutere l'emendamento della maggioranza con questi oltre 40.000 emendamenti il dibattito dovrà esserci perché non possono non votare questi emendamenti e questi sub Quindi lei prima di Natale aveva chiesto un dialogo con la maggioranza e mi pare di capire che non è cambiato niente in questi giorni No, si è aperto, però oggi c'era la fase emendativa e nessuno ci ha sottoposto un testo scritto quindi prima vedere il tappeto e poi dare il cammello Per sedare il canguro ci voleva... Per sedare il canguro ci voleva... Per sedare il canguro ci voleva... Per sedare il canguro ci voleva...